Due settimane per costruire la nuova giunta di Biancani Sindaco Ad Urbino nasce l'alleanza Scaramuzzi-Crespini per vincere al ballottaggio Nuovo ospedale a Muraglia dall'ex primario all'appello ad investire anche nei medici Sergio Castellitto apre stasera la sessantesima mostra del cinema A Pesaro un musical che celebra la nascita della pizza Rossini Una buona serata telespettatori di Rossini TV e benvenuti a questa nuova edizione di Rossini News Telegiornale di oggi venerdì 14 giugno che apriamo occupandoci ancora degli sviluppi post-elettorali a Pesaro Il nuovo sindaco Andrea Biancani ha annunciato di darsi due settimane di tempo per creare la nuova giunta Che però ha intanto già un punto fermo di ripartenza nella conferma di Daniele Vimini Vediamo il servizio Il nuovo sindaco di Pesaro Andrea Biancani si è dato due settimane di tempo Per costruire la giunta alla guida della città per il prossimo quinquennio Un gioco di equilibri ed incastri fra la rilezione di massa di tutti gli assessori uscenti nell'ultima tornata elettorale Ed eventuali rinnovamenti che partono però da un punto fermo Quello di Daniele Vimini che continuerà il suo lavoro d'assessore della cultura in una Pesaro 2024 senza soste Un incarico di fatto già assegnato in campagna elettorale e confermato in questi giorni Sono molto contento di questa nuova situazione perché permetterà di poter fare tanto altro lavoro In particolare negli ambiti che ho sempre curato, quindi della cultura, del turismo, dei finanziamenti europei Ora anche con Ricci in Europa, una squadra che si rafforza nei ruoli Siamo pronti a giocare un campionato ancora più importante Sono grato naturalmente della fiducia ad Andrea così come sono grato anche a Matteo per quella riposta in questi dieci anni Che tutti assieme ha dato risultati importanti così come è stato importante sia dalla maggioranza che dall'opposizione Il ruolo di Andrea Biancagni e Regione Quindi diciamo è una triangolazione che da questo punto di vista assieme a tanti altri che hanno concorso i risultati Ha sempre funzionato al meglio Ora appunto le sfide sono ancora più grandi Quindi c'è un nuovo corso da dare alla città perché il sindaco dà giustamente l'impronta che ritiene a una città Quindi lasciandone anche il segno Per me è una bella sfida fare parte anche di questa nuova organizzazione di giunta Andrea ha detto che la sua idea è di confermare in parte quello che l'impostazione è data Ma questo poi lo deciderà Chiaramente fate le giuste valutazioni nei prossimi giorni E chiaramente sono grato di questa mia prima conferma che è venuta un po' dall'esito elettorale Ma anche da un ragionamento complessivo di gestione della città che era nato in preparazione della candidatura Lavoro di Vimini che di fatto non si è mai fermato Capitale italiana non consente soste pause quindi siamo tutti già al lavoro E nei prossimi giorni si aprirà anche la squadra e penso che sarà una bella conferma Al di là di singoli nomi però per la città di garanzia e di continuità e della qualità E dalla futura giunta passiamo all'opposizione nel consiglio comunale che riparte invece da Michele Redelli Il candidato più votato del centro-destra nell'ultima tornata elettorale Le urne dell'8 e 9 giugno hanno detto che con 541 voti Michele Redelli è stato il candidato al consiglio comunale più votato E dunque rieletto al prossimo consiglio per il prossimo quinquennio Redelli un risultato importante a livello personale che si abbina però a una sconfitta di coalizione Sì è un risultato importante anche perché già questo era riuscito 5 anni fa Era già stato il più votato e sono riuscito in qualche modo a riconfermare questo importante risultato anche questa volta Con dei numeri in crescita da 430 a 541 Per me non sono numeri, sono volti, sono persone, sono luoghi e realtà che ho incontrato In qualche modo ho tentato di supportare con la mia azione in consiglio comunale Un risultato così però non lo si fa da soli ma lo si fa soltanto dentro una squadra Una squadra che è il mio partito, Fratelli d'Italia, una squadra che è il centro-destra I risultati personali sono importanti ma chiaramente senza una squadra questo non può esistere Infatti è per questo che c'è comunque dispiacere per il risultato generale ottenuto da una coalizione Una coalizione che comunque cresce, che comunque si consolida Che comunque non ha fatto forse abbastanza, non è riuscito a sfondare Quanto serviva per poter essere veramente competitivi e vincere queste elezioni Avrete un nuovo sindaco al quale fare opposizione, avrete una formazione in parte confermata, in parte rinnovata Penso ad esempio all'ingresso proprio di Marco Lanzi, candidato sindaco Che coinquegna sarà? Noi faremo un'opposizione molto seria, concreta, determinata, senza sconti È un lavoro che sarà capillare, sarà capillare su tante tematiche Perché i problemi che abbiamo evidenziato negli anni scorsi sono ancora tutti presenti E noi vogliamo ripartire da lì con determinazione nell'analisi dei problemi Ma anche con grande senso di responsabilità nell'individuare soluzioni proposte Soluzioni propositive perché teniamo la nostra città E crediamo che sia anche compito nostro migliorarla A livello personale quest'ultimo anno ha detto anche il suo congedo da Forza Italia E l'adesione a Fratelli d'Italia Poteva forse sulla carta essere un'arma a doppio taglio Invece si è dimostrato la conferma su una politica che guarda più alle persone Almeno nel suo caso rispetto alle sigle di partito Sì, il mio tentativo è quello di fare una politica veramente a contatto con le persone Andando a incontrare, andando a verificare nei luoghi La mia scelta è legata a una scelta di politica Io credo nello scenario del conservatorismo Credo nel lavoro che sta facendo Giorgia Meloni al governo E credo che nel conservatorismo si possa costruire Quella che può essere la casa di tante persone del centrodestra Che credono in questi ideali chiari, fermi Ma che credono anche che si possa avere un dialogo sicuramente E una leadership all'interno della compagine di centrodestra Tempi quanto mai prematuri Ma questo essere il più votato del centrodestra Dà magari pensieri anche di candidatura a livello personale a sindaco Per quello che accadrà tra cinque anni? Prima di ragionare di quello che accadrà tra cinque anni Bisogna lavorare su quello che c'è da fare in questi cinque anni Certamente i numeri sono importanti Certamente questa domanda mi lusinga So bene che bisogna lavorare, lavorare tanto, con precisione E soprattutto costruire una squadra Ecco, noi abbiamo il compito in questi cinque anni Di costruire una squadra importante Una squadra larga che parta dai quartieri Che parta dal mondo delle associazioni Che parta da tutte quelle persone Che in qualche modo vogliono provare a fare la differenza Il 23 e 24 giugno si tornerà invece a votare ad Urbino Per il ballottaggio che deciderà il nuovo sindaco Fra il primo cittadino uscente Maurizio Gambini Che ha ottenuto il 47,96% dei voti E lo sfidante di centro-sinistra Federico Scaramucci Che ha invece ottenuto il 44,73% Ieri sera è stato però sancito l'accordo programmatico Fra lo stesso Scaramucci e Maria Francesca Crespini Della lista civica futura che al primo turno Aveva ottenuto il 7,3% di preferenze 617 voti che dunque tornano in ballo In questo turno di ballottaggio Che nelle speranze della nuova alleanza Puntano ad effettuare il sorpasso su Gambini All'esito delle urne del 24 di giugno Ed ora una notizia di cronaca Che parte da un indasine della squadra mobile di Pesaro Per una denuncia di ricatto a sfondo sessuale Un 67enne dopo essere stato adescato Da una donna in un supermercato E' stato infatti minacciato e ricattato Per non diffondere un video hard Che lo vedeva protagonista Di un rapporto sessuale con la truffatrice dell'incontro Il fugace incontro è stato ripreso Dalle fantomatico fidanzato della donna Che sarebbe stato pronta a rivelare Il rapporto occasionale alla famiglia della vittima I due truffatori sono stati arrestati in flagranza Durante la consegna dell'ennesimo pagamento Da parte delle 67enne E torniamo ora a parlare del nuovo ospedale di Pesaro Che sorgerà nelle quartiere di Muraglia Lo facciamo attraverso alcune considerazioni Delle professore Feisal e Bunkeila Che proprio in questo 2024 Andato in pensione dalla sua carica di primario Di radioterapia di Pesaro Non c'è solo l'impegno della regione Marche Nel migliorare le attrezzature tecnologiche Delle aziende sanitarie e territoriali C'è anche quello dei suoi dirigenti medici E' il caso della radioterapia di Muraglia Che in questo 2024 ha visto attivarsi Quell'acceleratore lineare Che è stato il primo in regione Installato grazie a fondi PNRR Strumento all'avanguardia per qualità di prestazioni Per snellimento di liste d'attesa Fortemente caldeggiato dal primario Feisal Bunkeila Andato in pensione poche settimane dopo L'entrata in funzione dell'acceleratore Abbiamo lavorato tanto E dico veramente abbiamo lavorato tanto Perché abbiamo praticamente iniziato a lavorare Il primo giugno del 2023 Per inaugurarlo a gennaio 2024 Quindi l'apparecchio è in funzione da gennaio 2024 E' un apparecchio all'avanguardia E serve effettivamente per i nostri pazienti Ricordo sempre che la radioterapia Dell'AST Pesaro Urbino Non serve solamente alla provincia di Pesaro Urbino Ma serve anche oltre la nostra provincia Tutte le regioni Marche Ma anche fuori dalle regioni Marche Arrivano dall'Emilia Romagna E anche altrove Il dottor Bunkeila di origine libica Ha diviso la sua carriera fra Sontorsola E Università di Bologna E gli ultimi 12 anni a Pesaro Lascia un ospedale di murale Che aggiunge contenuti tecnologici Ad un contenitore che andrà ripensato Su quello che sarà il sito del nuovo ospedale Dove sta la radioterapia, la medicina nucleare E l'immatologia non saranno toccati quell'edificio lì Perché quell'edificio lì è intoccabile a dire la verità Perché non conviene effettivamente andare a fare nuovi bunker L'edificio che ospiterà l'ospedale nuovo Sarà vicino Ed è importante Il mio appello è quello di non investire solamente sull'immobili e sull'attrezzatura Ma investire anche sul personale Sull'essere umano Sulla risorsa umana Perché secondo me La risorsa umana è importantissima Perché se no Noi creeremo delle scatole vuoti Dopo il pensionamento Bunkela si è candidato al Consiglio Comunale 107 voti ottenuti nella lista Forza Pesaro con Mila della Dora Con la convinzione che in sanità Nonostante le competenze prettamente regionali Pesaro debba far sentire la voce delle esigenze della seconda città delle Marche Ovviamente noi sappiamo che la sanità è di competenze regionali Però la seconda città delle Marche ha la sua voce E ha anche la sua popolazione Il mio impegno è quello che ho promesso anche alla gente Ai miei elettori A coloro che hanno avuto stima e fiducia in me È quello di non ammainare la bandiera La mia è una lotta per il sistema sanitario nazionale Io ricordo a tutti quanti che il nostro sistema sanitario nazionale È uno dei migliori al mondo Va difeso e va sostenuto Il tre volte campione del mondo di motociclismo Francesco Pecco Bagnaia Sposerà la compagna Domizia Castagnini a Pesaro il prossimo 20 di luglio Ieri sono state affisse le pubblicazioni ufficiali del matrimonio Con cerimonia religiosa in eduomo e ricevimento a Villa Imperiale Un legame sempre più stretto fa Bagnaia e Pesaro Che lo scorso gennaio aveva anche ricevuto la cittadinanza onoraria Ed è partita oggi la sessantesima mostra del cinema di Pesaro Che avrà subito un grande ospite come Sergio Castellitti In occasione del ventennale del suo film Non ti muovere Un Castellitto che abbiamo ascoltato in anteprima questo pomeriggio Venerdì 14 giugno si alza il sipario Sulla sessantesima mostra internazionale del nuovo cinema Il Pesaro Film Festival Che tocca tanti luoghi della città Ma che ha il cuore pulsante nel luogo dove ci troviamo ora Piazza del Popolo in questo anno di Pesaro Capitale della Cultura Nel palco alle nostre spalle Con l'allusfera simbolo di Pesaro 20-24 Ci sarà Sergio Castellitto Ospite d'onore a aprire questa rassegna Un Castellitto che venne a Pesaro Alle origini della sua carriera Come ci ha raccontato questo pomeriggio In un'anteprima con la stampa Tenutasi nel cortile dell'atelier Atti Tanti anni fa si capitai qui Ero come dire nella zona nella categoria degli emergenti Penso che questo sia una come dire una mostra del cinema Un festival del cinema davvero meritevole Davvero meritevole perché negli anni è riuscito a diventare A rimanere in qualche modo autorale Sperimentale in qualche misura Però anche ad aprirsi ad un pubblico Meno diciamo apparentemente militante O legato soltanto a un certo tipo di cinema Soprattutto in questo periodo In questa epoca in cui L'attenzione verso il cinema in sala È davvero Basso La presenza di Castellitto a Pesaro È strettamente legata al ventennale Di non ti muovere film Ispirato al popolare romanzo Della moglie Margaret Mazzantini Un film che ricorda con particolare trasporto Lo stesso Castellitto È stato uno stato di grazia Che ha accolto un pochino tutti Io Penelope Margaret Ma io direi veramente tutta la troupe Io lo so Tanto li vedo Dal direttore della fotografia Allo scenografo Al costumista Tutti hanno un ricordo struggente Di quelle settimane là Poi tieni presente una cosa Che fa la sua differenza Io dirigevo il film Ma io ero anche il protagonista maschile Per cui ero nella trincea Del set Attore insieme ad attrice Insieme E quindi in qualche modo Tutto accadeva in maniera così Emotivamente forte In maniera così febbrile E accadeva insieme L'ho sempre definito il mio film Più politico Nel senso psichico della parola Perché al di là delle Come dire Delle pastoie Più o meno ideologiche Dei teoremi Della Ferocia o meno Di certi Di certi temi Sui quali siamo naturalmente Tutti d'accordo Gli artisti hanno il compito Di Ribaltare I temi Di cercare Altri modi Altri modi Narrativi Altri Altri perdoni Un castellitto Che con la stampa Si è aperto Anche su quelle Che sono le sue aspirazioni Attuali e future Ma c'è Il piacere di fare Questo tipo di esperienza Al centro sperimentale C'è la scrittura Di un prossimo film Di cui naturalmente Non parlo Insieme a Margaret Ovviamente Di cui non parlo Fino a che le cose Non accadranno davvero E poi Insomma Mi godo anche il piacere Il successo Di mio figlio Di miei figli Insomma Sapere che in qualche modo Hanno trovato Ognuno di loro Per il proprio percorso Una strada Insomma Interessante È una cosa che mi fa Mi fa felice Mi fa stare sereno E dalle cinema Passiamo al teatro Parliamo di un nuovo musical Che avrà a Pesaro La sua prima assoluta Il prossimo 25 giugno Il 25 giugno Arriva a Pesaro Al teatro Rossini Per la prima volta Sua Maestà La Rossini Il musical La produzione Di questo spettacolo Ci ha consentito Di dare una sbirciata Al backstage Di questo spettacolo Che arriva In prima assoluta E che è diretto Da Maria Sacchi Sì Siamo in piena fase Di allestimento Di questo nuovo spettacolo Sono davvero felice Di poter portare Nella mia città natale Un progetto Interamente inedito Mi sono ispirata Liberamente Alla leggenda Di come appunto È nata La famosa Pizza Rossini E ne è nato Uno spettacolo nuovo Originale Una commedia musicale Fresca Un family show Adatto a famiglie Del quale Sono veramente Orgogliosa All'interno del cast Tutti i professionisti Eccellenze Del mondo del musical Tra questi Anche performer Pesaresi E marchigiani Di cui siamo davvero Fieri e orgogliosi Nella parte creativa Cito anche appunto I miei collaboratori Che hanno dato Vita allo spettacolo Insieme a me Per la parte musicale Nick Casciaro E Samuel Spingi Per gli arrangiamenti E per le coreografie Elena Ronchetti E vedrete anche in scena Le scenografie Realizzate dai ragazzi Del liceo artistico Mengaroni di Pesaro E per quanto riguarda La produzione Invece esecutiva Dello spettacolo Preciosissima La collaborazione Di Simone Cesaroni E dell'associazione Milena Pianosi Ne siamo stati Molto felici Ed è veramente Un onore È la prima volta Che l'associazione Si cimenta Nella produzione Di uno spettacolo Di questo livello Quindi speriamo Che questo sia Un trampolino di lancio Per replicarlo Sono veramente felice E orgoglioso Di poter dare Voce e vita Alle storie Dei vari personaggi All'interno di questo spettacolo Il percorso creativo È stato incredibile Non solo ci saranno Dei brani originali Ma anche Delle aree Le più famose Aree di Gioacchino Rivisitate in chiave Molto diversa Quindi Preparatevi Vi aspettiamo a teatro Non vediamo l'ora Di farvi vedere E sentire Il nostro musico Ciao E parliamo anche di musica Con la rocca Malatestiana di Fano E l'ex chiesa Di San Francesco Che ospiteranno L'edizione 2024 Di Sinfoni Pop Festival Saranno quattro appuntamenti Per l'estate fanese Dal 23 giugno Al 30 luglio E saranno quattro appuntamenti In due luoghi speciali Della nostra città L'ex chiesa San Francesco Nella quale ci troviamo E nella quale abbiamo presentato La stampa a questa iniziativa E la rocca malatestiana Quattro serate Quattro concerti Con programmi Tutti molto belli E particolari Si parte appunto Il 23 giugno Con il trio Dmitri Che proporrà Musica classica Dei trio Di Beethoven E Brahms E una fantasia Costruita sui temi Dei brani Che andremo ad ascoltare Nei concerti Che seguiranno In questo festival Si passa poi Il 6 luglio Alla rocca malatestiana Con un concerto Dedicato a Puccini Siamo nel centenario Della morte Del grande compositore D'opera E abbiamo pensato Di fare un concerto Con il tenore Giuseppe Infantino E il soprano Vardui Diretti dal maestro Corrado Valvo In questa serata Ci sarà un'edizione speciale Del premio Tiberini Che lo annuncio io Ma lo ha appena annunciato La professoressa Giuseppe Infantino Sarà assegnato Alla nostra orchestra Si passa il 13 luglio Con il concerto Con la presenza Della pop star Chiara Gagliazzo Una voce davvero Incredibile Che interpreterà Brani Della musica italiana Con gli arrangiamenti Di Roberto Molinelli Tra cui anche I suoi successi personali Termina il festival Il 30 luglio Con questo concerto Dal titolo curioso Baroc Che unisce Il discorso Della musica barocca Per cui sarà proposto Il bellissimo Vivaldi E si terminerà Aumentando un po' Il tasso roccheggiante Del programma Protagonisti Saranno i nostri Due primi violini Francesco Pellegrini E Enri Domenico Durante Tutti i concerti Avranno dei prezzi Assolutamente abbordabili 5 euro per i giovani E 10 euro Per la restante parte Della popolazione E da lunedì Prima però di lasciarvi Le previsioni Delle meteo Vi ricordo La programmazione In onda A partire da subito Dopo questa prima edizione Del nostro telegiornale La natura Della cultura magazine Appuntamento fisso Tutti i lunedì Mercoledì Venerdì Alle ore 8 Alle 13 E alle 20 Vi ricordo però anche I riassunti della settimana Che potrete rivedere Questo weekend Sabato Alle 12 Alle 19 Domenica Alle 15 Alle 21 E la nostra prima serata Questa sera Alle ore 21 E 20 Prevede lo speciale Televisivo Che abbiamo realizzato Lo scorso Fine settimana Ad Isola del Piano Isola del Piano Che era settimana Della cultura Per quanto riguarda Pesaro 2024 50-50 Capitali Alle quadrato Lo speciale di stasera Parla della donna rurale Con Franco Arminio Che è stato ospite Ad Isola del Piano E vi ricordo Anche il nostro appuntamento Con la rassegna stampa Domani mattina Saremo in diretta Alle ore 7 e 20 In diretta anche Sulla nostra app Sul sito Sulla nostra pagina Facebook Domani mattina Paolo Pagnini A leggere I quotidiani I locali La nostra rassegna stampa Repliche 8 e 20 12 e 20 14 e 20 18 e 20 Ed è davvero tutto Vi ringrazio per essere stati In nostra compagnia Vi auguro un buon weekend E una buona serata